Sì, tripletta, tripletta però sempre più dura, quest'anno io mi ricordo la prima vittoria l'avevo fatta tutta da solo, la seconda l'ultimo giro, quest'anno siamo arrivati lì lì, perciò vuol dire che passano gli anni e faccio sempre più fatica, però finché dura, va bene, poi oggi era una bella partenza, siamo partiti in 100 mi sembra, perciò è stata anche una bella gara, tanti partenti, il percorso è stupendo, è un percorso che non nasconde niente, chi ne ha la tira fuori perché è duro il giusto per poi far vincere i migliori, però ecco dai, anche quest'anno è andata bene, poi fu una bella giornata di sport, nessuno è caduto, l'organizzazione è stata perfetta, poi è un memorial, Bruno è un amico, perciò come tutti gli anni fa piacere, dai! Solo doppietta anche perché quest'anno fortunatamente mi sto allenando un po' di più, quindi ritrovo un po' la condizione e niente, codere con i giovani è sempre più dura, però fortunatamente quando si riesce a tenere le ruote di quelli giovani, eccola, di quelli giovani si riesce ad andare fino all'arrivo, grande anche Samuele che mi ha comunque portato in volata e dopo ce l'hanno giocata a darmi pari, bene così! Sì, ciao, non vi avevo visto! Eravamo lì nel parco gioco! Ah, dove lo stavate giocando?